E se non torna? Così mi ha detto una persona riferendosi al proprio cane riguardo ad un mio video dove parlavo di liberare il cane. E se non torna chiediti anche come mai non torna? E questo può essere legato anche alla tua paura di non essere in grado di far sì che il cane torni perché quando uno afferma ma e se il mio cane lo libero e non torna sembra che tutto dipenda da lui. Queste possono essere anche proiezioni. Forse la persona sta dubitando della sua capacità di far tornare il cane. E allora qui si entra in un discorso collegato alla relazione, al legame. Quanto è forte il tuo legame con il cane? Quanto il cane è legato a te? Com'è la tua relazione? In che modo vi state relazionando? Sai ascoltare il tuo cane? Sai comunicare nel linguaggio dei cani? Sai capire il suo comportamento, le sue emozioni, i suoi bisogni interiori? Quindi bisogna che tu ti faccia delle buone domande. La paura collegata al non liberarlo preclude al cane, a te, la possibilità di vivere bei momenti, vivere delle gioie. E allora è importante che ti faccia delle domande quanto sei in grado di comunicare col cane, quanto sei in grado di ascoltare, di capire il suo linguaggio e di comunicare in un modo che lui comprenda. E oltretutto anche creare un legame, un legame di attaccamento che è fondamentale. Tuttavia, cosa fai per esempio quando non sai giocare a calcio, quando non sai giocare a basket, quando non sai notare quello che una persona fa, o osserva gli altri, oppure va ad imparare da chi ha studiato, da un esperto in materia, in calcio, in basket, nel nuoto. E allo stesso modo, a mio avviso, potresti fare tu con il tuo cane. Se hai difficoltà a lasciarlo libero e a far sì che risponda al richiamo, bisogna che tu ti rivolga ad un esperto di linguaggio, comportamento, relazioni, benessere del cane. Ciao, sono Stefano Pesci, istruttore ed educatore cinofilo comportamentale, ideatore del metodo Together Dog, la Escero, cane insegnante. Il mio sito internet è www.istruttorecinofilo.it Se vuoi, se ti fa piacere, puoi iscrivermi e farmi delle domande anche lì. Ciao!